Omicidio a Cetraro, 46 anni ucciso davanti pizzeria. Un uomo di 46 anni, Alessandro Cataldo, con precedenti per spaccio di droga, è stato ucciso a Cetraro nell'Alto Tirreno Cosentino nella serata del 9 novembre in circostanze sulle quali hanno avviato indagini i carabinieri del reparto operativo di Cosenza e della compagnia di Paola. Cataldo, nel momento in cui è stato ucciso, si trovava davanti ad una pizzeria nei pressi del porto della cittadina tirrenica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un agguato messo in atto da una persona armata di pistola che si è poi allontanata a bordo di un'automobile condotta da un complice. Stando ai primi rilievi, contro Cataldo sarebbero stati sparati quattro colpi andati tutti a segno e che ne hanno provocato la morte istantanea. Sulla matrice dell'agguato, i carabinieri al momento non escludono alcune ipotesi.